La situazione nel Partito Democratico pugliese tarda a sbrogliarsi. Dictat, corse in avanti, primari a Bari, questione Melucci a Taranto. Lungi da noi cercare di entrare nel merito a questioni complesse a partiti nazionali, ma è il cittadino elettore che chiede chiarezza in vista del voto tra sabato 8 e domenica 9 giugno, dove saremo chiamati al rinnovo non solo del Parlamento europeo, ma anche di importanti comuni come Bari e Lecce, dove però da giorni non si muove foglia. Le primarie restano prioritarie, ma non è solo un gioco di parole, per il PD nel capologo pugliese, dove nonostante siano state zerate le varie candidature, Petruzzelli, attuale assessore, si è candidato contro il volere del suo stesso partito, mentre il Movimento 5 Stelle resta con la forgia e non vuole le primarie. E nei prossimi giorni torneranno a manifestare davanti al municipio a Bari ex ed attuali dipendenti del Comune che lamentano nei confronti di Emiliano e De Caro, quindi di esponenti di spicco del centro-sinistra, la cattiva gestione da codice penale sostengono di cassa prestanza. In campo al loro fianco ci sarà questa volta anche la Feder Consumatori. Mentre allargando lo sguardo al resto della regione si può ancora notare che 75 giorni dopo l'ente pugliese non versa il dovuto alle strutture accreditate tra laboratori analisi, centri diagnostici e di riabilitazione. Assessori, consiglieri regionali, direttori generali della Giunta Emiliano in silenzio rispetto ad una questione che da ottobre coinvolge tante famiglie. La legge dice 30 e 60. La Comunità europea vorrebbe che si pagassero i centri privati, quindi le prestazioni, dopo un solo mese dall'emissione di fatture, ricette e resoconti. Ma tutto questo non sembra interessare a nessuno. Uno scandalo tutto pugliese dove con i burocrati davvero non c'è nulla da fare. Grazie a tutti.